Dopo il galante di Danisini, riapre a Palermo un altro asilo lasciato per anni nell'abbandono. Stamane è stato inaugurato il Mimosa di via Duca degli Abruzzi a Palavicino. Ne beneficeranno 35 bambini fino a tre anni. L'edificio fu abbandonato nei primi anni del 2000 perché necessitava di interventi di manutenzione, ma venne occupato dai senza casa. Gli sgomberi tardarono fino al 2019. Una profonda ristrutturazione, costata quasi un milione di euro, permette da oggi la riapertura. Vi lavorano quattro educatrici e sei operatori ausiliari. Questo asilo ha avuto una storia tormentata, abbandonato, occupato, recuperato, oggi restituito finalmente alla sua funzione originaria e necessaria che è quella di un asilo nido che viene aperto ai primi 20 bambini, che recupera una funzione importante all'interno del quartiere e che si inserisce all'interno di una programmazione che questa amministrazione ha adottato per il potenziamento dei servizi educativi della prima infanzia. È il terzo asilo nido che inauguriamo nel periodo di nostra gestione. Ma entro il 2026 saranno aperti a Palermo altri 18 asili, lo conferma l'assessore all'istruzione Aristide Tamaio. L'amministrazione è impegnata in maniera massiccia a realizzare le strutture previste dal piano PNRR. Si parla di cifre, di numeri. Ci sono 12 asili nel primo avviso e sei che sono stati finanziati col secondo avviso. Entro il marzo 2026 ci saranno 18 nuovi asili nido a Palermo, dislocati nelle aree soprattutto che erano diciamo carenti di queste strutture. Per esempio siamo qui nella settima circoscrizione. Sono previsti altri due asili da realizzare, anzi sono già iniziati i lavori. Parlo dell'asilo di via Besta, è la strada che porta dall'Ozerno a Cardillo per intenderci, e il Pertini che è in via Santo Pertini che è la circonvallazione dell'Ozerno 2 dove già sono iniziati i lavori del nuovo asilo nido.